Aveva 55 anni ed era un brillante docente dell'Università degli Studi del Molise. Massimo Petrone si è spento la scorsa notte dopo una breve malattia all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Una vita alla sua dedicata alla ricerca, all'insegnamento, soprattutto all'interno dell'Università degli Studi del Molise, ma anche fuori, in altre realtà italiane. Docente di informatica nel Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Ateneo Molisano, Petrone nel corso degli anni ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi. Nel 2004 è stato nominato referente dell'Università del Molise nell'ambito del progetto unitario di e-government dei comuni molisani. Nel 2002 è stato nominato componente del Comitato Tecnico Consultivo del Forum Società dell'Informazione finalizzato all'esercizio delle funzioni di confronto attivo sul piano regionale volto alla realizzazione della Società dell'Informazione del Molise. La sua prematura scomparsa ed è stato commozione all'interno dell'Ateneo Molisano tra i docenti, ma anche tra gli studenti, tra i giovani che hanno avuto la possibilità di conoscerlo, di apprezzarne le capacità professionali e soprattutto la sua umanità. Massimo Petrone era sposato ed era padre di due ragazzi. I funerali si svolgeranno domani mattina a Montagano, nella chiesa madre del paese, alla sua famiglia, il cordoglio di Telemolise.